Ancora più la garanza perché è soffocato dalla paura e dalla vigoria, il male come desiderio, il male come ingiustificabile rilasciuta, le rispostrazioni. E qui io direi di iniziare la prima lettura della pagina 23 che io ho intitolato, per questo diritto che è questa lettura, come introduzione. Con l'estrata in scena della 609, la passeggiata domenicale veneva sostituita da un bel giro in macchina. Ada prendeva posto vicino a Nando e il braccio stendogiava in aglia. Le loro frenate corse verso il mare, Ada le descriveva al fratello con domizia di particolari, l'emozione provata da lasciarsi Roma alle spalle, da cui l'ultima carezza veniva da toghi e bianchi litrici dell'Euro, tagliati sullo sfondo. I chilometri percorsi velocemente. Si entusiasmava, poi, nel raccontare l'arrivo alla finezza di Ostia, fitta e misteriosa, in provvisa del mare, il cui prossimo invadiva l'abitacolo dell'Alto, ancora prima che si arrivasse a scongerlo.